Voilà, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video delle Bad Wars Si Se si sente un po' basso il microfono, io comunque urlo, eh, quindi Se si sente un po' basso, che... Non lo so Comunque i miei vicini mi mandano a cagare ogni giorno, quindi... Si Eh, allora ragazzi E se... Volete nuovi video su qualche gioco Comunque, appena arriviamo ai 30 iscritti, vi ricordo che se ci arriviamo un giorno Ehm... Se un giorno ci arriviamo ai 30 iscritti Ehm... farò una cosa Voi mi direte un gioco, ovviamente, tranne Fortnite Ehm... Tranne Fortnite, perché è Brustats, perché sono due giochi in cui sono una schiappa Ehm... Oggi usciranno, anche se sera, lo posso capire, però... E ogni tanto un video lo faccio uscire Poi dite che non li faccio uscire mai La maggior parte dei miei amici dicono, eh, non li faccio uscire mai video! E invece io... Che cretini, eh, che cretini Perché stanno facendo le mura e il letto così bello in bella vista? Io lascio a loro, eh, come lo so Io nel frattempo mi faccio i cavoli miei Mi faccio la spada Mi faccio delle armi Aprendo un po' di blocchi Ok, li vedi? Ah, no, cotto E adesso? Ma... nessuno... Vabbè Ok Va bene Mettiamocela così Comunque, il video che è uscito o uscirà Non lo so Perché l'ordine dei video non lo decido io Escono come escono Il video che è uscito o uscirà Sono stato ucciso per due volte Dai, Rosa E quindi voi non dovete Più Amare il colore rollo Adesso Adesso Se qualcuno vuole venirci a rompere le scatole E fa un ponte fino qua Si farebbe anche un favore Ok Lui sta iniziando Che figlia Noi, levi Uh, ho preso la torre Ho preso la torre Ma sono cretini O sono cretini C'è Andate al centro Allora Allora Oh, quello verde è spaccato un po' da roba. Ah, così. Oh, noi siamo la mucca. Che carina la mucca. Sì, però, pure voi fate qualcosa. Cioè, non state lì a fare quel cavolo di muraglio, quella cavolo di muraglia, eh. Fate qualcosa. Sì. Senti, io non spreco i miei blocchi per andare avanti. Usateli voi, se ci tenete a vincerla. Perché se poi ci vengono a fare un assalto... Cavoli vostri, bapuuu! Ho detto tutto. Adesso. Vogliono fare questo? E facciamolo. Ma loro vogliono fare una protezione... Però c'è una torre davanti al cavolo. E c'è la mamma mummum. C'è un po' di... C'è... C'è copyright. Non posso fare certe cose. Non posso dire certe cose. Quindi sono anche da demente. Per... Una nella e nel centro. Spazza il vetro, bravo. Da qui si passa Invece da qui si va sotto E si schifiga E no? Porto Guardate come è da sopra Beh hanno avuto un bel pensiero Poi ci ho messo una torre davanti al cavolo Ho messo Mettiamo un'altra protezione Mamma mia se a noi ci rompono il letto Io non so proprio cosa dobbiamo fare Se a noi ci rompono il letto Io non so proprio quello cavolo Che dobbiamo fare Ah di qua sono le scale Giorgia Io stupido Perché sto dicendo Quelle stesse cavoli No sul serio Allora io come sapete Mi chiamo Andrea Sono un maschio Sono stupido Molto Lo sapete Perché dico a certe volte Cavolate Ecco quello verde Se si stava lì No eh No eh No eh No eh No eh Vedete perché sono stupido Direte no Che non sei stupido Che non sei stupido Che non sei stupido Allora questo è qua è pieno Ho sprecato l'unica palla di pieno Che è quella Palla di pieno Che cretino che sono Raga allora io Direi di Mandarti a Arrivo anche mio Che sono Via Pneppina Via Via Sono l'unico cretino Che è salito Qua Sanche Pure Non so cosa cavolo sto dicendo Ma Non sto dicendo Ok Ok Io Quando Stiamo sul serio In pericolo Cosa faccio? Vutto giù? Vutto giù Dio Questi qua Lo posso rompere Raga Ho rotto il gioco Raga Ho rotto il gioco Ho rotto il gioco Roto il gioco Ok Allora Io Per Quando Succede qualcosa Mi metto Qui E poi ci mettiamo Aspetta Cosa per limento Lo portiamo di là Oh mamma mia Adesso mi arriva Le spie In casa Adesso Adesso Arriva Le spie Raga Adesso Mi arriva Le spie In casa Ho fatto una cosa Che non dovevo fare Questi qua Le hanno ammazzate Sì Di regola La registrazione È arrivata A dieci minuti Ok Bene Ecco Qua Nessuno Se l'ho accorto Vabbè Ok Comunque Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate Con l'invito A lasciare un mi piace Se volete vedere Un altro video Su questo Gioco Basta scrivermelo Nei commenti È da Oda che è tutto E gli ultimi Pochi minuti Rimanenti Di video Tipo Un altro minuto Di video È tutto E noi Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ragazzi E niente Non mi posso far vedere Il continuo Perché Tampoco Me ne vado Anch'io Facciamo l'ultima cosa Insieme Quella lì Porto